Ciao a tutti, allora oggi nuovo video giveaway e vogliamo regalare a una di voi questo shampoo ristrutturante e questo trattamento revisionizzante per i capelli. Sono ovviamente da usare in combo, questo all'inizio e questo alla fine. Questo è indicato per capelli idratati, quindi in pari con tinte, permanenti o comunque molto lunghi e drineggiati, ma anche magari corti che avete tinto tantissime volte. Idrate i capelli sfibrati grazie all'olio di arganio e alle proteine del denaro. Questo ovviamente si utilizza come un normalissimo shampoo. Dopo lo shampoo vi consiglio di applicare il trattamento di vitalizzante che è una maschera per capelli. Si applica dopo aver fatto lo shampoo, si lascia agire per 5-10 minuti e nel frattempo si pette i capelli così si distribuisce il prodotto. Poi si sciacquano i capelli e poi si asciugano tranquillamente normalmente. All'interno contiene acido glutammico, miele, estratte di vino, olio di semi di camelia. Cosa dovete fare? Dovete commentare questo video e in seguito sceglierò appunto uno dei commenti, controllerò se è iscritto alla nostra pagina Cure Derma di Facebook. Se segue la nostra pagina Facebook allora potrò procedere con la spedizione. Se invece il commento che lo scelterò a seguire la vostra pagina Facebook, ne scelterò un'altra.